Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi come attivare l'autenticazione a due fattori su Fortnite sull'account di Epic Games quindi in questo caso se tu vai su questa pagina che ti ho lasciato in descrizione questo è il link ed eccolo qua scendi fino a giù fino a trovare vai alla pagina dell'account impostazioni dell'account ed ecco il mio account Epic ora vai su password e sicurezza scendiamo fino a giù fino a trovare autenticazione a due fattori abilitata ovviamente su questo sito qua dice che per abilitare questa autenticazione dei fattori serve Google Authenticator lo troverai direttamente su Play Store quindi ripeto Google Authenticator è un'applicazione che si trova su Play Store tu colleghi il tuo account Google e automaticamente ti usciranno dei codici ogni 30 o 60 secondi si ripristineranno questi codici un codice da 6 cifre quindi per abilitare questa cosa autenticazione a due fattori o lo fai tramite l'applicazione o lo fai attraverso via email oppure via SMS quindi possiamo direttamente fare una prova con SMS quindi facciamo configura io ora metto il mio numero di telefono e faccio continua ora ci manderanno così un codice da 6 cifre mi hanno mandato così il mio codice vedete eccolo qua il codice è questo abilità all'autenticazione per via SMS e abbiamo abilitato questa autenticazione anche via SMS possiamo anche fare quella a due fattori via email facciamo configura e ho abilitato anche quella via email quindi questa si abilita attraverso l'applicazione Authenticator che troverai su Play Store questa bella email tua Google oppure di Epic Games e questa invece attraverso il numero di telefono tutto sul telefono quindi se questo video ti è stato utilissimo su come attivare l'autenticazione a due fattori tramite l'applicazione via email e codice via SMS per l'account di Epic Games per Fortnite iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao